Ma che dici? Ma sei... Ah, è questa! Eccola qui, vedi? Scusa se non ti accompagno, ma non farei in tempo a preparare la colazione. Senti, Ugo, ma non sarà troppo coperta la piccina? Ma che dici? Nonnino, non credo. Ma ferma. Va bene così. La scopro dopo, al parco, quando non c'è nessuno. La scopra! Vada via! Vada via! Vada via! Non fare furia! Se ne vada prima che chiamo una guardia! Oh, uè! Che fa? Anche il furbo adesso? Si riprenda la sua! Mi scusi, veramente non l'ho... non l'ho fatto apposta. E poi, diciamo la verità, i bambini a quest'età si somigliano tutti. Quasi. Io prendo il mio. Nonnino. Quante volte ti ho detto di non chiamarmi nonno, eh? Che fai? Dai, non fare così. Che cosa sei? Mi senti. Va bene. Adesso ti abbevi. Adesso ti do da abbevi. Vada a sentire prima come l'acqua, eh? Aspetta qua. Che stacqua! Che temperatura! Che. Che cosa sei? Che fai. Che fai? Che fai? Che fai. Che fai?